C'è stato un nuovo colpo di scena che riguarda l'ex protagonista del Grande Fratello, la foto con il pancione è ormai virale Il famoso reality show è condotto, ormai da molti anni, da Alfonso Signorini e adesso sta crescendo sempre di più l'attesa per la prossima edizione Numerose sono infatti le vicende che si sono create nella casa più schiata d'Italia e che hanno appassionato migliaia di italiani Ad esempio, la scorsa stagione è stata vinta da Perla Vatiero, che è sempre stata al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore, ora terminata, con Mirko Brunetti Virale è invece adesso diventata una notizia che ha reso i telespettatori al settimo cielo L'ex geffina si è mostrata con il pancione.Colpo di scena al Grande Fratello, eccola con il pancione Dopo la fine della scorsa edizione del famoso reality, sono accadute molte vicende che riguardano gli ex inquilini della casa Rotture, innamoramenti ma anche notizie giunte inaspettatamente, tra queste ultime, una delle geffine più amate di sempre ha appunto svelato una news bellissima Si tratta di Marina Fiordaliso, la cantante italiana che ha partecipato al Grande Fratello e che ha conquistato tutti con la sua personalità e determinazione Proprio lei ha adesso svelato che sta per diventare nuovamente nonna, e lo ha annunciato con una foto tenerissima La Fiordaliso è infatti apparsa, sul suo profilo social ufficiale, in compagnia di sua nuora, compagna di vita del figlio L'artista ha infatti fatto sapere che sta per diventare nonna per la seconda volta, dato che ha già conosciuto qualche tempo fa il suo primo nipotino Da metà settembre di nuovo nonna, ha infatti scritto lei sulla didascalia del post, io troppo felice Ad attirare l'attenzione di tutti è quindi stata proprio la foto, che ritrae la futura mamma con un enorme pancione e la Fiordaliso più felice che mai Numerosi sono chiaramente stati i commenti scritti dai fan, che non hanno perso l'occasione per commentare il felice evento e per augurare ai futuri genitori una vita ricca di novità e felicità Al centro dell'attenzione è stata anche l'ex Jeffina, i cui followers hanno mostrato una grande contentezza nella prendere la notizia dell'arrivo del suo secondo nipotino Nel frattempo, cresce sempre di più l'attesa per quello che succederà nel corso della prossima edizione del Grande Fratello Le novità saranno moltissime, come anche le sorprese che la produzione del reality show ha già in serbo per tutto il grande pubblico italiano